buongiorno dobi tv news oggi 3 novembre santa silvia e della giornata mondiale delle meduse le meduse sono da almeno 500 milioni di anni vivono in qualsiasi tipo di mare e sembra che il cambiamento climatico l'inquinamento degli oceani non le disturbino affatto al contrario di altre forme di vita marina minacciate sia dal cambiamento climatico sia della pesca eccessiva ma anche se le meduse hanno corpi semplici gelatinosi fatti principalmente di acqua sono più difficili da allevare di quanto si possa pensare un paio di curiosità la medusa criniera di leone ha tentacoli che possono crescere fino a 10 metri di lunghezza invece la più piccola e la più dettagli al mondo è la menusa irucanti che si trova soprattutto presso le coste australiane le sue minuscole dimensioni 2 3 centimetri di diametro la rendono pressoché invisibile all'occhio umano e la lasciano agire indisturbata